Abbiamo impostato una squadra su cui noi crediamo molto, una squadra completamente nuova, composta da professionisti e anche da veterani del palio, che però sono molto motivati e hanno questa idea comune che accomuna tutti, quello di portare le loro professionalità ed energie per poter potenziare il nostro palio marinario, il nostro amato palio marinario qui dell'Argentario. Presentato ufficialmente nella sala consigliare del comune di Monte Argentario, il nuovo Ente Palio, la squadra che si occuperà della manifestazione ferragostana assieme all'amministrazione comunale, un gruppo eterogeneo composto da professionisti e veterani che hanno voglia di rilanciare il palio marinario dell'Argentario anche al di fuori dei confini territoriali. In modo che del palio marinario dell'Argentario se ne parli il più a lungo possibile, non soltanto diciamo il mese d'agosto, da metà luglio a metà agosto, ma che se ne parli nell'arco di tutto l'anno, quindi avremo una serie di iniziative che stiamo organizzando, che abbiamo pensato e che organizzeremo col tempo naturalmente, che porterà sicuramente questo discorso del palio a larga scala, allargando proprio il pensiero palio, mantenendo le nostre tradizioni e la nostra cultura. Nuovo capitano Massimo Benedetti. Sì, in effetti è difficile cercare di mantenere il livello, anzi di migliorarlo, perché insomma chi mi ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro, il palio è arrivato ad un livello che qualche anno fa assolutamente non aveva mai raggiunto, quindi anche a livello di copertura mediatica dell'evento, eccetera, di attenzione su quello che è il palio, è cresciuta sempre di più. Un impegno gravoso, comporta delle responsabilità, anche perché il palio marinaro conta tantissimo per i santostefanesi, per quello che rappresenta e che ha sempre rappresentato, quindi cercherò insomma di svolgere al meglio il compito che mi stava affidato, anche se è una grossa responsabilità, devo dirlo, quello sì. Intanto all'Argentario si pensa all'imminente stagione estiva e alla soluzione possibile dell'annoso problema, quello dei parcheggi. Chiaramente i problemi dell'Argentario alla fine poi sono sempre i soliti, prima di tutto il parcheggio, su quello stiamo lavorando sia in termini di immediatezza, abbiamo sistemato un precedente parcheggio che conteneva 40 posti, l'abbiamo portato fino a 100, adesso partiremo con l'Aeronautica, e poi abbiamo appunto l'Aeronautica a Santo Stefano, abbiamo un progetto veramente importante, per cui lì ci dovrebbe essere una risoluzione definitiva per quanto riguarda Porto Santo Stefano. Per quanto riguarda Port Ercole il discorso è molto analo, anche se non abbiamo un terreno di proprietà nostro da fare, da renderlo uguale al campone. Però con dei privati l'idea è quella di rendere la loro area disponibile appunto per parcheggiarci e con quella si truono in servizio navette, per cui la gente che arriva a Port Ercole sa dove lasciare la macchina e sa dove andare.